Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto Franco Nero, diretto da Enzo Castellari, Il giorno del cobra. Ultima collaborazione tra regista e attore, film uscito nel cinema il 12 agosto 1980. Brevissimamente da trama, il cobra è Larry Stanziani, ex poliziotto radiato per un'ingiusta accusa di connivenza con la mafia, si è fatto pure tre anni di galera e ora vive a San Francisco, dove fa l'investigatore privato. Non se la passa bene, un personaggio squattrinato, è molto divertente la parte introduttiva, con la descrizione di Larry nella sua casa ufficio, un seminterrato polveroso, Larry non sembra un amante della pulizia ed è costretto ad accettare qualsiasi incarico, anche ritrovare cani smarriti, ma poi arriva la svolta, viene convocato dal suo ex superiore e accetta di recarsi a Genova, per indagare su Serge Kandinsky, suo avversario di sempre con cui ha un conto in sospeso. Allora Castellari prova giustamente a smarcarsi dal poliziesco drammatico, che nel 1980 non è assolutamente più credibile, punta sull'ironia e sulla caratterizzazione di Larry abbastanza simpatica, ad esempio appiccica gommeli da masticare dappertutto, e anche perché la trama è la solita storia di traffico di droga vista mille volte in altri film, quindi queste sfumature ironiche servono a differenziare il film da altri, anche se non manca qualche momento drammatico. Bisogna dire però che alcune scene sono un copia e colla di altri film di Nero e Castellari, ad esempio la scena in cui Massimo Vanni viene sparato ai testicoli, con una dinamica identica a quella vista in La polizia in crimina, la legge assolve, e poi il destino del figlio di Larry, anche quello identico alla polizia in crimina, ma anche il cacciatore di squali. Poi c'è una scazzottata al mercato del pesce, che ricordo un'altra simile, vista in Genova a mano armata di Lanfranchi, insomma ci sono molti deja vu, ma c'è da dire che una volta i film non erano disponibili in dvd come oggi, e non venivano trasmessi a ripetizione in tv, quindi i registi si sentivano tranquilli del fatto che una cosa fatta dieci anni prima non la ricordava più nessuno, ma nonostante tutto il film è divertente da seguire, ci sono pedinamenti, scazzottate, sparatorie, unica pecca, mancano gli inseguimenti spericolati in mezzo al traffico, ma si può chiudere un occhio, una cosa che invece non mi ha convinto è la metamorfosi, questo è il termine adatto, del personaggio della Lentini, è proprio una fesseria, non aggiungo altro per non svelare uno dei colpi di scena del film, se ancora non l'avete visto, comunque per quanto riguarda l'education, bellissima come sempre l'ambientazione genovese, a volte con delle belle scene in notturna, ci sono sia le zone centrali, i vicoletti caratteristici di Genova e poi ovviamente il porto, quindi insomma a parte qualche difetto quella è un film che mi piace molto, assolutamente consigliato se vi piace il poliziesco, è disponibile in dvd, anche se la qualità dell'immagine fa davvero schifo, praticamente hanno riversato il vhs in dvd, così c'ero buono anch'io, ma in ogni caso è un film da non perdere, anche se meriterebbe di essere visto in maniera più decente, quindi film consigliato, se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io, ci sentiamo alla prossima, a ciò mi ciò che l'abbiamo.